Ieri pomeriggio ho preso parte alle consultazioni col premio incaricato Mario Draghi. È stato un confronto positivo. Abbiamo proposto i nostri temi. Aiutare le aziende e frotteggiare l'emergenza occupazione. Senza imprese non c'è lavoro. Abbiamo chiesto al Presidente Draghi attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo. Artigiani, commercianti, agricoltori, albergatori del turismo e del settore termale attendono risposte concrete da parte delle nostre istituzioni. Accelerare il piano vaccini. La campagna di vaccinazione è un fattore fondamentale per far ripartire il Paese. E al Governo chiediamo di inserire le persone con disabilità tra coloro che devono essere vaccinate subito. Tasse. Col Professor Draghi ci siamo confrontati anche su questo tema. Abbiamo detto con chiarezza che una riforma del fisco deve mettere al centro la necessità e i bisogni delle famiglie. La sfida del Recovery Plan. Abbiamo condiviso col Presidente Draghi la necessità di una visione strategica. Le risorse europee non possono essere assolutamente sprecate. Siamo di fronte ad un tornante decisivo della nostra storia. E da come affronteremo questo tornante dipenderà il nostro futuro e quello dei nostri figli. Giovani, al futuro dell'Italia dobbiamo guardare pensando alle nuove generazioni. Bisogna investire su scuola e università, asset strategici del Paese, andando sempre più nella direzione di un umanesimo digitale.